Ecco, questo qui è una videocamera, no no si può girare, si può girare tranquillamente e mi faccia vedere il fungo. Fungo di quattrette e mezzo, mezzo chilo, lo giri un po', 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 trovato da Roberto, sì, Roberto Arighini, avete capito bene, perché è un sabbia sbagliato. E questo è il quarto fungo che ha trovato da quantità, ma questo merita, è bello, veramente bello.